Io faccio questo pezzo dedicato alle ragazze, sono stati tre ore per dirti che mancano un altro e ti tengono quattro ore in anno in questa storia, si fa così, quel pezzo finale, quelle luci da finale, c'ho un caldo rumore, adesso sono fuori 40 gradi di differenza e muoio, si fa così Ha iniziato con i discorsi, che mi vuole troppo bene, mi ha parlato anche con Mario, anche lui mi vuole bene, ma chi è questo Mario? Ma dove è questo Mario? Tu non aspetti di parlare Marta, cosa vuoi dire? Marta è uno scherzatore, sai che soffro di castellate, porta Marta adesso basta, fa un attacco di colite E lei, se lo so che sei sensibile, è tutto psicosomatico, me lo ha detto anche Mario, che sei buono, che sei simpatico Cazzo è questo Mario? Ma dove è questo Mario? Se non smettere di parlare Marta, cosa mi vuoi dire? E lei, come fai a non saperlo? Cosa vuoi che io ti dico? Sto parlando di Mario come il tuo migliore amico, ti ricordi l'anno scorso alla settimana bianca E un giorno non sciavo perché ero troppo stanca, anche Mario era depresso e per farmi compagnia Mi andrò male per sei ore, mentre tu eri in singiuria Poi come dicono tutti, dice, ma poi ho pianto, sai perché ti voglio bene? Anche Mario lo ha giurato, anche lui ti vuole bene Ma mi sposo con Mario, vado a stare con Mario Sono amante di Mario, faccio un figlio con Mario Mi ha tristissimo Ora sono quattro anni e sono sempre più depresso Prendo il tavolo con il Mario e poi mi vado a letto Analista mi consiglia, presto detto io ti dico E per stare un poco meglio, tu hai bisogno di un amico Ma mi è bastato di Mario Mi è bastato di Mario Grazie a tutti Grazie a tutti